La Val Seriana contro lo spreco di cibo, il progetto CUM PANE per distribuire le eccedenze alimentari e aiutare le famiglie in difficoltà. A Gandino anche uno spazio per le associazioni di volontariato. Si avvicina la fine dei lavori in piazza Orologio, presto si potrà di nuovo camminare nel cuore di Clusone. A Colzate è eletto il nuovo consiglio comunale dei ragazzi, in municipio l'avvicendamento tra baby amministratori uscenti e nuovi. Erika Mistri lascia la fascia tricolore a Filippo Baitelli. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 2. Finisce al Tar di Brescia la decisione del Comune di Albino di affidare il servizio di raccolta rifiuti a una società di Sarnico. Ci dice tutto Vladimir Lazzarini. Tre ditte che si occupano della raccolta dei rifiuti hanno presentato ricorso al Tar di Brescia per chiedere l'annullamento della procedura con cui il Comune di Albino ha affidato il servizio raccolta e smaltimento alla servizio comunale SPA che ha sede a Sarnico. Il sindaco di Albino, Fabio Terzi, ha dichiarato all'Eco di Bergamo che se gli operatori ritengono che l'amministrazione abbia commesso qualche irregolarità, la strada giusta è quella del ricorso. Il sindaco si dice comunque tranquillo perché la decisione è lungimirante ed è stata presa perché questo tipo di affidamento garantisce vantaggi economici nella gestione del servizio a vantaggio della comunità. Secondo Terzi, i chiarimenti giunti nel 2017 sulla legge Madia e il codice dei contratti hanno rassicurato che la procedura seguita è corretta e che è possibile l'affidamento diretto senza gara ad evidenza pubblica. I ricorsi che ci sono stati fino ad ora sono stati tutti respinti. La durata del contratto con la società di Sarnico è di 10 anni ma in qualsiasi momento e senza oneri l'amministrazione può rescinderlo. Il costo è pari a 989 mila euro con una cifra bloccata per 10 anni, con un risparmio di 18 mila euro per il fatto che non viene indetta la gara ogni 3 o 5 anni. Sulla validità del vantaggio economico, ha detto ancora il sindaco, è stata fatta una approfondita valutazione tecnica, giuridica ed economica. Ci occupiamo adesso di un progetto che si chiama Cum Pane, due vocaboli latini da cui nasce la parola italiana compagno, cioè chi condivide lo stesso pane. E proprio la condivisione di cibo ma anche di solidarietà è al centro di questa iniziativa che coinvolge diverse realtà della Val Seriana e che è stata finanziata dal Bando Volontariato 2018 di Regione Lombardia. Vogliamo parlare del progetto Cum Pane che coinvolge diverse realtà della Val Seriana. Iniziamo a dire come è nata questa iniziativa. È nata circa sei mesi fa quando c'è arrivata sul tavolo l'opportunità di partecipare al Bando del Volontariato 2018 della Regione Lombardia che finanziava progetti innovativi di volontariato. E in che cosa consiste questo progetto che avete elaborato? Questo progetto consiste soprattutto in una lotta allo spreco alimentare, una condivisione di legami di solidarietà e di volontariato verso le famiglie che sono in situazione di fragilità. E quali sono le azioni che vengono portate avanti attraverso questo progetto? È una lotta allo spreco alimentare che compiamo da circa due anni. Andiamo a ritirare le eccedenze alimentari, i freschi, nella grossa distribuzione a un supermercato di Albino. Le riportiamo in paese a Gandino dove vengono restribuite a famiglie in stato di bisogno. Abbiamo detto che il progetto coinvolge diverse realtà della Val Seriana. Quali sono? Allora c'è la San Vincenzo di Bergamo, il comune di Ranica che è già presente da un po' di tempo con una lotta di spreco alimentare nelle mense scolastiche, il comune di Nembro che sta portando avanti delle azioni, delle buone pratiche con cene di condivisione e Albino che è stato un po' il promotore nel 2012 con un altro progetto legami di pane che ha dato il via appunto a questa gara di solidarietà con il recupero delle eccedenze alimentari che altrimenti andrebbero sprecate. Quali sono poi le altre iniziative che avete in mente, che avete programmato? Un'altra iniziativa che abbiamo in mente è quella di andare poi nelle scuole. Abbiamo preso contatto con la dirigente scolastica della Val Gandino per portare quanto effettivamente costa il pianeta produrre il cibo per insegnare, seminare un piccolo seme nei nostri figli, far capire effettivamente quanto è prezioso il cibo e appunto che non va sprecato. Il progetto ha trovato anche casa a Gandino in uno spazio che vediamo alle sue spalle. Ecco, perché l'esigenza di questo locale? Allora, abbiamo sentito il bisogno di avere uno spazio fisico per il progetto che rendesse evidente e visibile le azioni che verranno sperimentate in diversi comuni della valle. Quindi, siccome il progetto è diffuso, abbiamo bisogno di un luogo che faccia un po' da collettore e che diventi lo spazio intanto visibile, ma poi appunto anche simbolicamente dove mettere un po' la radice del progetto. Questo è uno spazio che intanto vorrà, è anche un augurio, insomma una ipotesi, vorrà diventare la casa un po' del volontariato dei gruppi, delle associazioni, ma anche delle istituzioni che stanno lavorando da una parte per combattere appunto la povertà economica delle famiglie e dall'altra per contrastare invece lo spreco alimentare che fa un po' da contraltare a questa difficoltà. In più si vuole appunto farne un punto di incontro anche, diciamo, per soggetti un po' inediti rispetto al volontariato. Quindi noi stiamo pensando alle persone diversamente abili che già collaborano attraverso la cooperativa La Casa dei Sogni e il gruppo Gedi, ma anche per esempio ai richiedenti asilo. Pensiamo di fare degli assaggi di volontariato per i giovani e gli adolescenti. Stiamo costruendo rapporti con i cre degli oratori, ad esempio. Quindi vogliamo davvero farne un posto dove confluiscono idee e pensieri, ma anche persone vive che danno la loro impronta e aiutano man mano a costruire relazioni e tessuto sociale. Si stanno avviando alla conclusione a Clusone i lavori in piazza Orologio. Andrea Filisetti ha fatto il punto con l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Trussardi. A che punto sono i lavori in piazza Orologio? Direi in fase di ultimazione. Infatti entro la fine della prossima settimana dovremo vedere steso completamente il manto dei binderi in porfido che andranno a costituire quella che è la pavimentazione definitiva della strada e della piazza. E poi avremo, e quindi a quel punto la strada potrà essere aperta pedonalmente, come avevamo indicato da cronoprogramma, e successivamente poi dovranno trascorrere circa 25-28 giorni necessari perché la maturazione del calcestruzzo venga portata a termine e quindi poi il manto di copertura sia in grado di sopportare i carichi pesanti anche solo delle automobili. Come avete potuto vedere dalle riprese, abbiamo già provveduto da alcuni giorni ad aprire il collegamento tra la piazza Baradello e la via Pietrofanzago, ovviamente sempre pedonalmente parlando, e quindi almeno per i cittadini che usufruiscono di questo collegamento provvediamo a non procurare ulteriori disservizi che fra l'altro ecco come amministrazione ci sentiamo di dire che la popolazione ha risposto anche per la maggior parte dei casi in maniera molto positiva e continuiamo a ringraziare per la pazienza che è stata sopportata e poi penso ancora al massimo 10 giorni di tempo e vedremo i lavori ottimati. Invece su via Mazzini c'è ancora un'attesa che si protrae? Via Mazzini, cominciamo col dire che via Mazzini non è un lavoro dell'amministrazione con inclusione ma è, o almeno per la maggior parte dell'entità dei lavori, non è dell'amministrazione ma è un lavoro come dicevo in capo ad Uniacque Uniacque doveva sostituire una parte del condotto fognario e i lavori, ricordo, sono iniziati il 28 agosto non abbiamo ancora visto ultimati i lavori stessi e questo ci ramalicano un poco purtroppo abbiamo preso tutte le misure del caso abbiamo adottato ogni tipo di, non dico minaccia ma comunque abbiamo sentito neanche più volte ma i tempi si sono comunque protratti è vero anche che entro il mese di marzo c'è stata la garanzia di provvedere all'asfaltatura e quindi all'ultimazione dei lavori è vero che l'inverno è stato quel che abbiamo visto tutti e che si è protratto per tutto il mese di marzo con anche copiose nevicate quindi era impossibile provvedere ad asfaltare però adesso il mese di marzo e l'inverno è passato da qualche giorno quindi adesso speriamo proprio che si provveda il più presto abbiamo garanzie messe per scritto da parte di Uniacque che i lavori di asfaltatura e quindi di ultimazione dell'opera si verificheranno il 18 giugno questa è una certezza che abbiamo ottenuto proprio questa mattina dagli uffici di Uniacque speriamo venga mantenuta la promessa perché a questo punto davvero io mi sento a nome mio personale e a nome di tutta l'amministrazione di chiedere scusa ai cittadini di questa via perché hanno sopportato davvero l'impossibile ieri sera a Gandino un incontro dedicato al tema del consumo di suolo è stato promosso dal gruppo Lumen in collaborazione con l'associazione culturale il testimone, gli amici del museo e la biblioteca comunale è il momento di curare il nostro territorio uno dei messaggi lanciati sentiamo a volte si dice che per costruire una cosa serve molto tempo mentre invece per eliminarla, per distruggerla basta davvero poco succede la stessa cosa anche con il suolo Senz'altro, soprattutto perché non tutta la superficie della Terra presenta le stesse caratteristiche e soprattutto la nostra specie necessita di avere a disposizione delle porzioni di suolo che sono relativamente limitate rispetto alla superficie totale del pianeta e spesso utilizziamo quello che potrebbe essere il suolo migliore per le coltivazioni in altri scopi Infatti bisogna fare un ragionamento e programmare il futuro quello che è avvenuto negli ultimi 70 anni la mia generazione veramente non è sostenibile per uno stesso periodo allo stesso tasso di occupazione con edifici, con strutture improduttive sacrificando quella che invece potrebbe essere il suolo che mantiene l'umanità Spazi verdi in verticale Sì, però l'energia che arriva da fuori, che è il sole è per unità di superficie per cui siccome in genere è abbondante per cui anche mettendola su, come fa già la natura sulle pareti, si aumenta la superficie ma non si aumenta allo stesso modo l'energia che noi riusciamo a immagazzinare In Val Gandino è rimasto poco suolo a disposizione? Sì, soprattutto quello che dicevamo cioè di suolo utilizzabile è chiaro che gli ioni sono rimasti intatti ma non sono questi le aree in qualche modo pianeggianti o con debole pendenza sono estesamente occupate anche su più strati proprio in Val Gandino Beh, adesso è venuto il momento di curare il territorio curare il territorio vuol dire due cose, due cose diverse ma da fare contemporaneamente cioè da un lato guarire le ferite più gravi per cui bonificare le aree inquinette demolire le cose che hanno un assetto che ne impedisce l'uso curare la parte ambientale dei nostri territori di cui abbiamo abusato anche lì e dall'altra parte essere più attenti alle cose nuove che dobbiamo fare si apre una stagione importante perché i nuovi spazi di cui abbiamo bisogno possono essere quasi sempre costruiti dentro le aree già urbanizzate penso soprattutto non tanto alle case perché abbiamo bisogno anche di qualche tipo di case soprattutto le case ad affitto controllato per le quote più fragili della nostra popolazione ma soprattutto i grandi servizi importanti che possono anche contribuire allo sviluppo economico delle nostre città possono contribuire a farci fare un salto di qualità nel sistema produttivo i servizi per le attività produttive ma anche i grandi servizi pubblici l'università la salute la cultura dove troveranno lavoro spero i nostri figli che hanno un livello di scoralizzazione molto più alto della mia generazione e a cui dobbiamo offrire adeguati sbocchi la Bibbia ci dà un ruolo da custodi questo l'ha chiarito molto bene Papa Francesco siamo i custodi del creato e come tutti i bravi custodi dobbiamo curarlo amarlo aggiustare gli errori del passato e lasciarlo in dono come l'abbiamo avuto noi o addirittura meglio alle prossime generazioni più alimenti in meno spazio sono le parole d'ordine del metodo biointensivo che in questi giorni torna ad affacciarsi in Valseriana nel fine settimana Colzate ospiterà un corso pratico dedicato soprattutto alla coltivazione dell'orto l'appuntamento è per sabato e domenica domani e dopo domani dalle 9.30 alle 17 all'orto urbano di Viale Lombardia a Colzate dove si trova anche il frutteto didattico possono partecipare tutti e per iscriversi basta presentarsi domani mattina prima che il corso inizi in settimana poi arriverà in Valseriana Juan Manuel Martinez Valdez messicano uno dei massimi esperti al mondo del metodo biointensivo sarà protagonista di un incontro mercoledì a Gandino e di una conferenza sabato a Colzate e anche dopo la pausa parleremo di Colzate perché è stato eletto il nuovo consiglio comunale dei ragazzi ci occuperemo poi anche di una festa particolare che si svolge domenica a Valgoglio e poi dell'Atalanta l'Atalanta che torna in ritiro in Valseriana a Rovetta e anche quest'anno sarà seguita dalla nostra trasmissione Potadea a tra poco riprendiamo il nostro telegiornale a Colzate l'anno scolastico si è concluso con l'insediamento del nuovo consiglio comunale dei ragazzi dopo le elezioni a scuola ieri i baby amministratori uscenti hanno lasciato il posto a quelli nuovi la fascia tricolore è passata da Erika Mistri a Filippo Baitelli vediamo Erika ti toglie la fascia e la mette in nuovo il sindaco insegnale come va messa questa esperienza si è intera diventare dei giovani cittadini maturi e responsabili ragazzi che rispettano e amano il proprio paese come sindaco cercherò di realizzare il programma con l'accordo di tutti compreso la minoranza facendo i miei anche i progetti della stessa Erika raccontaci come è stata questa esperienza da sindaco dei ragazzi è stata molto bella impegnativa ma con l'aiuto degli assessori e della lista di minoranza e della mia lista siamo riusciti a realizzare tutto quello che avevamo proposto ad esempio raccontaci alcune delle cose che siete riusciti a realizzare abbiamo realizzato la visita al frutteto adesso stiamo finendo il murales che stiamo facendo sul pannello che ci ha offerto il comune e poi più o meno abbiamo fatto tutto Filippo sei proprio all'inizio sei stato appena eletto sindaco ma fin qui com'è stata questa esperienza è stata una bella esperienza mi è piaciuta molto e spero di andare avanti e fare tutte le proposte quali sono le proposte visitare il comune fare una lezione all'aperto di attività sportive visitare le storie in città alta e il terzo sociale fare una lezione all'aperto di attività sportive fare un corso di sicurezza con un esperto sulla strada sistemare i banchi sedie lim pc e le sedie con gommine antiscivolo consiglio comunale dei ragazzi un'esperienza che continua un'esperienza utile ma ci sembra anche apprezzata da questi ragazzi si è apprezzata perché dura un anno alla fine della quarta elementare fanno le elezioni eleggono un nuovo sindaco una nuova giunta che entra in carica già dal primo giorno di scuola dell'anno successivo e quindi dura in carica un anno intero hanno un piccolo budget a disposizione e più che altro si riesce loro a far vivere bene la preparazione del programma e quindi poi il dover mantenere il programma che è stato proposto che è stato votato e quindi tutto il meccanismo delle elezioni della lista di maggioranza la lista di minoranza il nome della lista ed è una cosa che mette loro molta carica partecipano poi tutto l'anno anche alle manifestazioni ufficiali che fa l'amministrazione comunale che sia il 4 novembre che sia il 2 giugno o che sia altro sempre il sindaco del consiglio comunale dei ragazzi accompagna anche il sindaco degli adulti anche quest'anno la Proloco di Valgoglio organizza una giornata di festa per tutte le persone che vivono o hanno vissuto in paese oppure hanno parenti originari di Valgoglio l'appuntamento è per domenica 10 giugno la giornata inizierà con la messa alle 12.30 a mezzogiorno e mezzo il pranzo su prenotazione in oratorio e infine un pomeriggio di musica e intrattenimento e proseguiamo col telegiornale con un nuovo ritiro dell'Atalanta a Rovetta riparte Potadea la trasmissione di Antenna 2 condotta da Elisa Cucchi quest'anno protagonisti saranno anche i tifosi Elisa Cucchi anche quest'anno sarà al timone di Potadea la trasmissione dedicata al ritiro dell'Atalanta e innanzitutto quando si parte? Innanzitutto si parte il 25 giugno noi di Potadea ogni lunedì alle 20.30 saremo in diretta sempre su Antenna 2 mi raccomando Canale 88 e siamo come sempre in diretta per commentare il ritiro dell'Atalanta a Rovetta il calciomercato e magari tutte le novità che riguardano la nostra amata Atalanta europea aggiungo primo di luglio sarà lo start ufficiale salvo cambiamenti relativi al Milan e quindi ai sorteggi e insomma la novità di quest'anno dopo il successo dell'anno scorso che abbiamo lanciato su così un contest relativo alla Papudenza quest'anno cerchiamo voi cerchiamo il vostro volto la vostra persona insomma la vostra passione per il calcio e per l'Atalanta chi lo sa Potadea ospita un tifoso per ogni puntata e così aspetta uno di voi a venire ospite da noi in trasmissione per commentare e dire la vostra sul calciomercato su quello che è la situazione dell'Atalanta e perché no dire la vostra sulla vostra passione la vostra storia da tifoso atalantino come si fa a partecipare? per partecipare quindi essere uno dei nostri ospiti in studio vi ricordo a partire dal 25 giugno alle 20 e 30 basta scrivere una mail a info chiocciolantenna2.it chiaramente i primi sei che si iscrivono faranno parte del nostro staff del nostro lunedì a tinte nero-azzurre per il resto formula consolidata come gli altri anni esatto per il resto formula consolidata come gli altri anni un'ora di diretta un'ora di commenti solo a tinte nero-azzurre e chissà parleremo tanto di calciomercato anche perché l'Atalanta ha bisogno di rinforzarsi per l'Europa vista anche la cessione di Cristante imminente ma tante altre cessioni e soprattutto dei nuovi acquisti in vista di questa Atalanta europea che ripartirà vi ricordo il primo preliminare di Europa League il 26 luglio e adesso l'appuntamento con la rubrica Erbe e Salute si avvicina l'estate la dottoressa Antonella Agostini ci consiglia come mangiare per abbronzarsi meglio Buonasera a tutti abbiamo visto come proteggerci dal sole perché abbiamo fatto la prevenzione per l'eritema abbiamo visto come scegliere un buon solare adeguato al nostro tipo di pelle vediamo anche cosa mangiare per aumentare diciamo il colorito della nostra pelle allora è inutile dire che piace a tutti essere un pochino abbronzati perché dà quel colore di salute sembra che siamo addirittura più riposati per cui ci piace avere un po' di tintarella esistono degli alimenti che sono ricchi per esempio di beta carotene il beta carotene è la sostanza naturale che favorisce la produzione della nostra melanina e sono tutta quella categoria di frutta e verdura con polpa arancione per cui facili da ricordare per esempio le carote per esempio la zucca per esempio le albicocche le pesche e i meloni questi hanno un'elevata percentuale di beta carotene ricordate che il beta carotene è liposolubile quindi ha bisogno di un veicolo oleoso cosa significa in parole povere che se mangiate le carote dovete condirle con l'olio altrimenti non assorbite il beta carotene quindi è inutile mangiare carote a secco utilizzate comunque un filo di olio esistono anche delle verdure che insospettabili sono ricche di beta carotene perché non sono arancioni e quindi uno non va a pensare non si ricorda molto facilmente il contenuto di beta carotene e sono gli asparagi i broccoli e gli spinaci e le alghe che sono poco diffuse nella nostra zona comunque queste quattro diciamo verdure che sono verdi da vedere hanno un'elevata concentrazione di beta carotene un'altra sostanza che vi può aiutare come colorito è il licopene è una sostanza che è presente in elevata concentrazione nei pomodori quindi anche qui veicolo oleoso per cui condite i pomodori ricordate di nonna a fare un consumo eccessivo di pomodoro perché potrebbe causarvi bruciore di stomaco quindi bene per una buona insalata magari giornaliera perché il licopene aiuta e favorisce la produzione di melanina tutti questi prodotti se non volete mangiarli solamente con l'utilizzo delle verdure e della frutta li trovate presenti anche in molti integratori già combinati e molto spesso anche arricchiti con vitamina E che dona elasticità alla nostra pelle molto spesso ultimamente in nostri integratori più moderni diciamo è presente l'emblica officinalis che è una pianta che prima veniva utilizzata solo in oriente Cina e India l'emblica officinalis è una pianta antiossidante e quindi combinata con la vitamina E e il beta carotene favoriscono praticamente la resistenza della pelle allo stress solare fatevi consigliare dal vostro medico o farmacista di fiducia arrivederci e buona serata e adesso una pausa e poi tra poco la parte finale di nuovo in onda con il nostro OTG verso la conclusione con i programmi di Antenna 2 iniziamo dal canale principale questa sera alle 20 e 30 un nuovo appuntamento con il settimanale di informazione target alle 22 e 15 Italia Economia alle 22 e 30 la seconda edizione del telegiornale alle 23 e 30 Decoder il canale News 218 alle 21 e 30 il TG alle 22 e 10 l'anteprima target questa sera un servizio dedicato ai lavori in corso durante questa primavera nel comune di Gandellino il canale sportivo 628 alle 20 e 30 il programma di motori paddock alle 22 e 30 la rubrica Blue Sport proseguiamo con l'almanacco domani è sabato 9 giugno il sole sorge alle 5 e 24 e tramonta alle 21 e 15 la luna è in fase canante sorge alle 3 e 07 e tramonta alle 15 e 54 la chiesa ricorda San Efrem e chiudiamo con le previsioni del tempo domani su Alpi e Prealpi Lombarde al mattino cielo irregolarmente nuvoloso con residue precipitazioni in seguito passaggio a cielo poco nuvoloso ma con formazione di nubi cumuliformi che potranno dar luogo a isolati e brevi rovesci temperature in aumento è tutto grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti